Tra globalizzazione e frammentazione è il titolo di questa edizione e quindi noi adesso possiamo come dire dichiarare aperti i lavori del Festival del Futuro. Io chiamo sul palco la moderatrice della prima tavola rotonda, la collega Marta Ottaviani dell'Avvenire. Benvenuta Marta. Buongiorno. Ho citato proprio il tema di quest'anno tra globalizzazione e frammentazione perché pare quasi un ossimoro. In realtà voi adesso ci spiegherete cosa sta accadendo. Per 30 anni c'è stata questa crescita, aiuto quasi mi ammazzo, questa crescita come se la globalizzazione sarebbe andata avanti per sempre. Qualcosa sta cambiando? Stanno cambiando gli equilibri mondiali, ci troviamo probabilmente agli albori di un mondo multipolare e l'importante è affrontarlo con la consapevolezza che il mondo sta cambiando e possibilmente con le chiavi giuste per interpretarlo. Vedremo cosa ci diranno tra poco i nostri relatori. Che io ti presento subito. Quindi tu puoi prendere posto, ecco il tuo sgabellino, mi sposto di qua. E quindi io invito a raggiungerci Marta Dassù, Senior Director Europe Aspen Institute. Prego, buongiorno, benvenuta. Sì, prego. La faccio accomodare lì. Ferdinando Nelli Feroci, Presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuto anche a lei. Vittorio Emanuele Parsi, Direttore di Aceri, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. Buongiorno e buongiorno anche ad Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza Italiana, Commissione Europea. A voi quindi il palco. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Io sono molto felice e orgogliosa di inaugurare questa quinta edizione del Festival del Futuro con un panel che riassume un attimino poi quello che è il contenuto di tutta la manifestazione, la globalizzazione frammentata. Arriviamo da trent'anni sostanzialmente in cui abbiamo sentito parlare di globalizzazione in tutte le sue forme e siamo in un periodo dove però tutte quelle certezze che abbiamo accumulato in trent'anni si stanno sciogliendo come neve al sole. La cronaca ci arriva fin troppo in aiuto, è di questa notte il risultato delle elezioni olandesi, i sovranisti primo partito probabilmente non riusciranno a formare il governo, quindi si prospetta diciamo una soluzione come tipo quella della Polonia ma ancora non sappiamo. Certo è che dobbiamo fare i conti anche, lo sappiamo, con due conflitti che stanno dilaniando l'Ucraina e il Medio Oriente, il primo conflitto a due ore d'aereo da noi e praticamente alle porte dell'Europa e il secondo conflitto, ennesima escalation di una questione che ormai non può assolutamente più essere trattata come regionale e che anzi a mio modo di vedere è l'ennesima espressione di qualcosa di più complesso che si sta muovendo alla base e quindi di un mondo a blocchi contrapposti dove da una parte ci sono gli Stati Uniti e l'altra a tirare le fila. La Cina, ma sentiremo tra poco cosa ne pensano i nostri esperti e in più abbiamo un anno, il 2024, che si prevede particolarmente complesso. A marzo ci saranno le elezioni in Russia, beh devo dire che qua il risultato è quantomeno abbastanza prevedibile, possiamo dirlo senza tema di smentita. Dal 6 al 9 giugno ci sarà un voto molto importante per il rinnovo del Parlamento europeo e a novembre la madre di tutte le elezioni, quindi insomma si sceglie il nuovo presidente degli Stati Uniti e vedremo, vedremo, anche temo una campagna elettorale dai toni piuttosto accesi, appesantita ulteriormente anche dai guai che ha con la giustizia il candidato repubblicano, quello che probabilmente sarà il candidato dei repubblicani, Donald Trump. Un mondo sempre più complesso da capire, è giusto dare le chiavi corrette per interpretarlo, io sono molto felice di farlo oggi con i nostri ospiti, Marta Dassù, esperta di politica americana, editor in chief di Aspenia e anche con un passato da sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri. L'ambasciatore Nelly Feroci, presidente dell'OIA, una grandissima esperienza diplomatica alle spalle, anche tra New York, Pechino e Bruxelles, quindi veramente una solida conoscenza anche dei meccanismi multilaterali. Il professor Vittorio Emanuele Parsi, direttore della scuola di relazioni internazionali della Cattolica e il dottor Parenti, a cui, lo dico già da adesso, spetteranno le domande più ostiche di questo panel. Ma, professor Parsi, vorrei iniziare da lei, abbiamo parlato appunto di una globalizzazione che si sta quasi sfilacciando sotto i nostri occhi, che mondo è quello che abbiamo davanti? Sarà un mondo multipolare e come cambieranno gli equilibri delle potenze che si sono faticosamente tenuti fino a questo momento? Grazie, grazie per l'invito, grazie per la domanda e grazie a voi per essere qui. Cerco di tracciare almeno due o tre punti, dal mio punto di vista, chiaramente, sulle possibili evoluzioni. Il primo elemento su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che siamo di fronte a una, già adesso, ma penso che sarà la tendenza anche dei prossimi anni, a quella che io definisco una volatilità permanente. C'è un sistema internazionale in cui gli elementi di volatilità sono molto più diffusi rispetto al passato, in cui i cambiamenti sono molto più rapidi, l'interdipendenza resta, ma il modo in cui si aggregano, diciamo così, le variabili all'interno di questo sistema interdipendente è molto più difficile da prevedere. E quindi sarà un mondo in cui sarà molto più importante reagire rapidamente, quindi cogliere gli errori e modificare le strategie, piuttosto che l'illusione di poter pianificare a lungo termine la strategia perfetta. Lo abbiamo visto anche in quest'anno, il deterioramento dei rapporti con la Russia era evidente da diversi anni, ma di fatto il conflitto in Ucraina è stato completamente imprevedibile. L'ammalloramento, i limiti della strategia israeliana attraverso gli accordi di Abramo per stabilizzare la sua presenza in Medio Oriente, erano stati denunciati da diversi osservatori, ma quello che Massa ha scatenato il 7 ottobre era sostanzialmente imprevedibile. E ambedue questi eventi non sono eventi marginali, sono eventi che poi danno là a dove si muove il sistema. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento che ha sottolineato già Marta Ottaviani è che finisce una lunga epoca di convergenza tra sistemi politici e sistemi economici a livello internazionale, che era iniziato sostanzialmente già negli anni 80 in parte, ma che si era rafforzato parecchio a partire dagli anni 90. Siamo di fronte a un'epoca di divergenza. Divergenza non significa la rottura delle interdipendenze, ma significa delle interdipendenze che saranno governate, si cercherà di governare, con una logica differente, una logica che include e valuta molto di più il costo politico dell'interdipendenza economica. E questa è una novità rispetto alla globalizzazione come era stata impostata fin dagli anni 80. Era una globalizzazione in cui l'illusione che il mercato potesse sostanzialmente mettere in file regolare gli interessi politici era, diciamo così, l'occhio della globalizzazione. Oggi sappiamo che il mercato consente alcune convergenze, ma gli interessi politici possono essere disposti a pagare prezzi molto elevati dal punto di vista economico pur di conseguire quelli che sono i loro obiettivi. Quindi una divergenza che non ci deve spaventare, ma che ci fa parlare di fenomeni come la riglobalizzazione o il frame-shoring o il near-shoring e via discorrendo. Perché queste cose sono rilevanti? Perché noi a volte siamo ancora in grado di cogliere le tendenze, quindi la tendenza alla riglobalizzazione, la tendenza alla decarbonificazione e quant'altro. Però il punto fondamentale è che conoscere le tendenze non significa essere in grado poi di tirare tutte le implicazioni. Un esempio è molto banale. Quello che noi chiamiamo frame-shoring o near-shoring, cioè il tentativo di accorciare le catene logistiche in termini di rischi sostanzialmente, ha un impatto evidentemente su un paese come la Cina. Un impatto che significa per la Cina la necessità di riconsiderare sia i suoi obiettivi di economia e di politica interna, sia i suoi obiettivi e le sue ambizioni di politica internazionale, che sono evidentemente molto diversi da quelli che sono i nostri. Quindi questo mondo che continua a presentarci sfide di carattere, diciamo, trasversali rispetto ai confini che richiederebbero e richiederanno comunque una forma di accordo, però contemporaneamente su quelle che sono altre sfide più convenzionali, se volete, ma semplicemente perché le conosciamo da più tempo, ma non per questo meno pericolose o meno importanti, in questo altro tipo di sfide avremo attori che hanno interessi diversi e quindi perseguono sistemazioni complessive diverse. Come riuscire a mecciare, come riuscire a tenere insieme queste due cose è la grande sfida sostanzialmente del futuro. Il multilateralismo è stato inventato in realtà per gestire proprio la conflittualità. Non dobbiamo mai dimenticare che l'origine, diciamo, nobile del multilateralismo coincide con la strutturazione del sistema europeo dopo Vesfaglia. Il diritto internazionale che è la prima forma che rimanda a un'idea multilaterale è sostanzialmente coeva alla costruzione del sistema della politica internazionale in Europa. Quindi abbiamo un'esperienza di cose diverse da tenere insieme, ma abbiamo anche una lunga esperienza di colossali fallimenti. Quindi questo significa che la sfida che abbiamo davanti non è minimamente impossibile da vincere, ma sicuramente non sarà, diciamo così, una passeggiata di salute. Perfetto, grazie professor Parsi. Dottoressa Dassu, abbiamo parlato di Cina. Dieci giorni fa c'è stato un incontro che insomma farebbe ben sperare. Quanto meno Joe Biden, il presidente americano e l'omologo cinese Xi Jinping sembrerebbero a San Francisco aver quantomeno fatto finta di sotterrare l'ascia di guerra. A che punto sono le relazioni sino-americane in questo momento e possiamo davvero fidarci di questa che se fosse una tregua confermata tra queste due grandi potenze avrebbe ovviamente anche una ricaduta positiva su tutto l'ordine globale? Eh beh, anche per me grazie infinite dell'invito. Città bellissima che ho fatto a piedi, anzi di corsa dalla stazione in mancanza di alternative. Devo dire, Cina e Stati Uniti è la competizione del secolo, non c'è dubbio se guardiamo al futuro, guardiamo essenzialmente agli esiti di quella che, nei limiti in cui diceva Parsi, è una transizione del potere. Quando c'è una potenza in ascesa, ormai ascesa come la Cina, e quando c'è una potenza che definiamo established, che lì dà un bel po' la superpotenza degli Stati Uniti, che hanno gestito l'ordine internazionale dal 1945 in poi e soprattutto dal 1989 in poi con la vittoria nella guerra fredda contro la Russia. Che cos'è questa cosa? È una seconda guerra fredda, c'è un acceso dibattito fra gli accademici su questo. Io ritengo che in effetti lo sia una seconda guerra fredda, ma in condizioni diverse dal passato. Stati Uniti e Unione Sovietica non erano così interdipendenti come lo sono Cina e Stati Uniti oggi. Cina e Stati Uniti hanno avuto nel 2022, quando già si parlava di decoupling, di risking, cioè di riduzione delle dipendenze, hanno avuto il top, il massimo del loro interscambio commerciale. Questo io credo continuerà, perché il mercato cinese alla fine è troppo importante. Ma c'è un grosso ma, anzi ce ne sono due secondo me. Il primo è che queste transizioni del potere nella storia sono sempre state violente, da Atene e Sparta in poi. Ricordiamo ad esempio l'ascesa della Germania Guglielmina rispetto alla Pax Britannica con gli avvenimenti della prima metà del Novecento. Quindi è un rischio vero e in questo caso il rischio sarebbe legato fondamentalmente al problema della riunificazione di Taiwan. Quindi tu dicevi Marta, le elezioni a cui guardare nel 2024, io credo che una prima elezione fondamentale sia quella di gennaio a Taiwan, per eleggere il presidente di Taiwan, perché una vittoria strabordante del partito indipendentista secondo me complicherebbe anche i rapporti fra la Cina e gli Stati Uniti. Sarebbe meglio fondamentalmente per gli equilibri del sistema internazionale che vincesse l'opposizione, il Kuomintang, che come sapete infonde a favore di un'unica Cina e della difesa dello status quo. Quindi, grossa incognita Taiwan, su cui vorrei dire un'altra cosa. Si parla molto di guerra mondiale a pezzi. La mia idea su questo è che mentre la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, Israele contro Massa, sono in effetti dei conflitti contenuti, anche se molto importanti, la guerra in Ucraina sicuramente molto importante per la sicurezza europea, Taiwan sarebbe una guerra globale con un costo enorme per il sistema internazionale, con rischi enormi. Quindi c'è una differenza qualitativa, l'innesco di un'eventuale guerra mondiale potrebbe venire da Taiwan. Ed è per questo che c'è stato l'incontro di San Francisco. I rischi sono tali, la posta in gioco è tale che le due superpotenze di oggi cercano di ridurre i rischi, hanno ristabilito ad esempio i contatti militari e questo è molto importante, visto che il mar della Cina meridionale è un incrocio fra aerei che volano e spesso rischiano di collidere. Quindi Cina e Stati Uniti sono alle prese con una regolazione della loro competizione e questo è molto importante anche per l'Europa perché l'Europa rischia di rimanerne in qualche modo schiacciata. L'Europa, abbiamo visto, è già stata fortemente danneggiata dalla guerra in Ucraina, nel senso che la guerra in Ucraina ha tolto un pilastro importante del modello industriale più rilevante dell'Europa, il modello industriale tedesco. Si basava la coerenza del modello economico tedesco sull'acquisizione di gas a basso costo dalla Russia. Questo è caduto con l'Ucraina, è caduta l'opzione euroasiatica. La competizione fra Cina e Stati Uniti rischia di fare cadere un secondo pilastro importante che è l'export nel mercato cinese da parte della Germania e l'elezione eventuale di Trump nel 2024 rischia di fare cadere un terzo pilastro importante che è la protezione per la difesa a basso costo dagli Stati Uniti. Quindi siamo di fronte a un cambiamento strutturale molto rilevante. L'ultima considerazione che vorrei fare su questo è che la Cina, secondo me, che ha una visione molto dilattata del futuro. Stiamo parlando di futuro, ma il futuro è una nozione psicologica. Per la Cina è molto dilattata. La Cina pensa di avere tempo e ritiene che gli Stati Uniti dal 2008, dalla crisi finanziaria, siano in una fase di irreversibile declino. In realtà per me non è vero, nel senso che la Cina è più debole di quanto noi pensiamo alle prese con una fondamentale prova, quella di cambiare il proprio modello di sviluppo. Si è esaurita una prima fase di crescita intensiva e adesso la Cina dovrebbe riuscire a stimolare una crescita trainata dai consumi interni. È molto difficile, per ora non ci sta riuscendo granché, si riducono i tassi di crescita, ma la Cina ritiene di avere appunto dei tempi lunghi. L'America è meno debole di quanto in genere si pensi. È debole politicamente, lo vediamo. Insomma, il sistema politico americano è abbastanza a pezzi. Trump da una parte e dall'altra un partito democratico che non riesce ad esprimere un altro candidato che non sia un presidente di 81 anni, che sarà anche abbastanza bravo, ma chiaramente troppo vecchio per essere credibile e non a caso ha un tasso di gradimento interno molto basso, paragonabile a quello di Jimmy Carter nel 1980, che infatti governò solo per un mandato. Quindi l'America è indubbiamente debole politicamente, ma economicamente molto vitale. Ha avuto un terzo trimestre straordinario dal punto di vista della crescita. Oggi c'è un assestamento, ma tutti i profeti di sventura, diciamo così, sull'economia americana vengono regolarmente smentiti. Quindi la guerra fredda secondo me c'è, ha delle regole molto diverse dal passato. Una guerra sarebbe devastante per l'insieme del sistema internazionale. È la competizione bipolare fondamentale di oggi e poi ci sono le cosiddette potenze di mezzo. I paesi che devono decidere da che parte stare, oppure devono decidere di non schierarsi per niente, che è una delle regole nuove di oggi. In effetti i paesi come la Turchia, che pure è nella NATO, l'Arabia Saudita, che pure cerca la protezione militare americana, ma anche alcuni paesi asiatici decidono che possono avere rapporti di sicurezza con gli Stati Uniti, rapporti economici con la Cina e così via. L'Europa può fare la stessa cosa? Secondo me no, ma le ragioni del no le lascio tutte ad Antonio Parenti. Eh sì, povero dottor Parenti, cosa l'aspetta tra poco. Però per il momento rimaniamo ancora diciamo nel quadrante asiatico. Perché? Perché i due conflitti in corso hanno in qualche modo distolto l'attenzione su quella che è insomma il quadrante del futuro. Quindi non solo la Cina, ma tutto il global south, no? Come si dice. Quindi insomma il sud-est asiatico ma anche oltre. E vorrei chiedere all'ambasciatore Nelly Feroci, che appunto ha una grande esperienza sia nel multilaterale sia appunto sulla Cina, cosa ne pensa questo proposito? Quali saranno diciamo, speriamo non i campi di battaglia per non far come i profeti di sventura dell'economia americana, ma quantomeno le aree che attireranno gli appetiti delle grandi potenze o delle cosiddette potenze di mezzo nei prossimi dieci anni. Grazie, anch'io ringrazio per l'invito e rispondo volentieri alla provocazione di Marta Ottaviani affrontando il tema del cosiddetto sud-globale o global south. È un'espressione che è diventata molto di moda più o meno in coincidenza con l'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, però diciamo, poi ci sentiamo un attimo più nel dettaglio, non è una novità il fatto che esista nel mondo un agglomerato di paesi che non si riconoscono grossomodo diciamo dell'Occidente. In passato c'era stato un movimento dei non allineati in un contesto completamente diverso, un mondo che si distingueva per una competizione fra blocchi e contrapposti. C'era stato nel campo dell'economia il movimento del gruppo dei 77, che è il gruppo che rivendicava di paesi, all'epoca si chiamavano in via di sviluppo, che rivendicavano un nuovo assetto delle elezioni economiche internazionali. Oggi con questo termine sud-globale o global south si identifica un gruppo molto e molto eterogeneo di paesi che però hanno come minimo comune denominatore è quello di una certa, mettiamolo così, insofferenza nei confronti dell'Occidente globale. Quando dico Occidente globale penso al gruppo di paesi che si riconoscono nella leadership americana e di cui fanno parte sicuramente i paesi europei ma anche alcuni paesi che si trovano molto lontani dall'Occidente che conosciamo noi, tipo l'Australia, la Nuova Zelanda, il Poneo e la Corea del Sud. Tutti questi paesi si sono trovati uniti nella risposta da dare all'aggressione russa all'Ucraina ed è il dato che in qualche modo ha ricompattato un gruppo di paesi che non erano poi così uniti fino a prima del 22 febbraio del 2022. Ricordiamo le difficoltà che c'erano state per esempio tra noi europei e gli americani in occasione del ritiro affrettato, svolto nel peggiore dei modi possibili dall'Afghanistan. Però diciamo, una volta confrontati con questa aggressione così violenta, così clamorosamente in violazione di norme e principi fondamentali della convivenza tra stati, questo gruppo di paesi avevano ritrovato una loro unità di azione che si era manifestata in alcune cose che abbiamo tutti assistito e visto, la condanna senza distinzioni, senza se e senza ma dell'aggressione russa, l'adozione di una serie di pacchetti di sanzioni che sono stati sicuramente i più pesanti nei confronti di un paese terzo, anche se poi non hanno prodotto gli effetti che ci si aspettava e poi soprattutto la decisione di assistere il paese aggredito, l'Ucraina, con tutti i mezzi possibili tranne che con l'intervento diretto nel conflitto, quindi anche con l'assistenza militare, oltre che economica, finanziaria, umanitaria, l'accoglienza dei profughi ucraini. Ecco, quello che abbiamo scoperto, non voglio dire con una certa sorpresa, ma sicuramente con un certo appunto, è che c'era una parte del mondo che non ci ha seguito, che non ha condiviso questa linea, che non si è schierata o, nella peggiore dei riposti, in alcuni casi si è schierata apertamente dalla parte di Mosca. Questo gruppo di paesi, ripeto, è molto diversificato, ci sono paesi che sono delle autocrazie a tutti gli effetti, ci sono paesi che sono delle democrazie perfettamente funzionanti, ci sono paesi che hanno comunque rapporti di interdipendenza economica molto rilevanti con l'Occidente e altri paesi che hanno una loro maggiore e più efficacia autonomia dal punto di vista economico. E soprattutto c'è in corso all'interno di questo gruppo una competizione per la leadership ed è ovvio che in questo momento, se c'è un paese che si sta profilando come il leader naturale di questi paesi, questa è sicuramente la Cina. A un futuro questo gruppo di paesi potrà veramente svolgere un ruolo che sia distinto da quello di contrapposizione all'Occidente, potranno realizzare una piattaforma comune condivisa sul tema della revisione del regolo della governance globale o anche più modestamente sulla revisione delle modalità di funzionamento di alcune istituzioni internazionali che giustamente questi paesi considerano un'eredità del passato ed ancora troppo squilibrate quanto al loro governo a favore dei paesi occidentali, è difficile dare una valutazione perché, ripeto, all'interno di questo paese le differenze di questo gruppo sono ancora molto rilevanti. Vorrei citarne una fra tutte che è la relazione indocinese. Sono probabilmente i due paesi più significativi, più importanti di questo schieramento, sono due paesi che hanno collocazioni geopolitiche e geostrategiche molto diverse e molto rilevanti motivi di conflittualità tra di loro. Quindi una partita aperta, una partita aperta sia per quanto riguarda lo sviluppo di una piattaforma comune praticabile, usufruibile in termini operativi, una partita aperta per quanto riguarda la leadership, chi sarà il paese guida, semmai ce ne sarà uno, però una partita aperta che costituisce al tempo stesso una sfida per l'Occidente perché non c'è dubbio che per noi c'è complessivamente una necessità di recuperare un rapporto con questo gruppo di paesi. A mio avviso vorrei aggiungere, questa è una valutazione molto personale, evitare certe contrapposizioni come quella che piace molto ai nostri amici americani, tra democrazia e autocrazia, che non porta da nessuna parte perché è vero ed è giusto che noi siamo attaccati e attribuiamo un'enorme sostanza alle modalità di funzionamento delle democrazie. È vero che noi dobbiamo attribuire un'importanza ai nostri sistemi di principi e valori, è altrettanto vero che non necessariamente dobbiamo imporle sugli altri se vogliamo arrivare con gli altri ad un rapporto collaborativo, è un rapporto che produca anche dei risultati. Grazie. Grazie ambasciatore, è molto interessante la sua ultima osservazione. Io che mi occupo di due autocrazie, in effetti devo constatare anche molto dolorosamente che a livello di società civile quando si gioca diciamo l'arma della democrazia non è che ottenga tutto questo seguito anche perché sembra un dato banale ma in realtà secondo me non lo è assolutamente. alla democrazia bisogna essere abituati, bisogna averla vissuta, bisogna averla praticata, bisogna averne godute tutte le possibilità che la democrazia offre e a proposto di democrazia l'abbiamo evocata tante volte, veniamo alla nostra diletta Unione Europea, chi vi parla è un europeista direi che convinta è dire poco, va però detto che insomma questa Unione Europea direttore Parenti è parecchio perfettibile, io la prima domanda che le vorrei fare è una curiosità che mi è sorta a partire dal 7 ottobre in poi, abbiamo avuto una reazione all'invasione della Russia, i danni dell'Ucraina che devo dire mi ha sorpreso molto positivamente, è stata una reazione compatta, è stata una reazione veloce, è stata una reazione molto pragmatica. 7 ottobre Unione Europea vagamente pervenuta per usare un eufemismo, si è andata avanti in ordine sparso, non c'è stata quella coesione che avevo visto in Ucraina e che veramente mi aveva colpito positivamente, come mai questa differenza secondo lei? Intanto anch'io mi associo a ringraziamenti per l'invito, è sempre un piacere essere a Verona. Credo che la risposta alla sua domanda abbia necessità di sviluppare due punti, uno che è legato alla natura dei due conflitti e uno che è invece un punto chiaramente istituzionale. Quello legato alla natura dei conflitti è legato al fatto che il conflitto russo-ucraino era oggettivamente molto più semplice del conflitto tra Israele e Hamas. Si trattava di una invasione da parte di un paese che è membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dunque un paese che garantisce e dovrebbe garantire la pace a livello globale, che compie una chiara ed evidente violazione non solo del diritto internazionale ma anche di un rapporto più o meno fiduciario che si era cercato di instaurare con la Russia a partire dagli inizi degli anni 2000, ma addirittura anche prima con la OSPolitik, che era quel rapporto per cui noi commerciamo e commerciando con voi piano piano ci avviciniamo. Il meccanismo di allontanamento è stato lungo nel tempo ma chiaramente l'invasione dell'Ucraina è stato un evento al quale non era difficile trovare una posizione comune. Il conflitto tra Israele Hamas, pur seguendo all'orrore degli eventi del 7 ottobre, è un conflitto molto più complicato perché le posizioni dei paesi membri dell'Unione Europea sulla questione palestinese sono posizioni estremamente più variegate come tra l'altro si è visto nelle votazioni che ci sono state a New York poche settimane fa e di conseguenza posizioni così variegate sono più difficili da portare ad una unità e qui vengo al secondo punto. C'è poco da fare, l'Unione Europea soffre di un meccanismo di formazione della politica estera che fa sì che, non voglio dire che non ci sia una politica estera europea perché sarebbe un'assurdità perché delle cose ne abbiamo fatte, ma che chiaramente è ostaggio di un sistema che prevede l'anonimità nelle decisioni in materia di politica estera che non è raggiungibile nel brevissimo termine. Persino nel caso dell'Ucraina abbiamo avuto dei tempi sempre un po' più lunghi ad arrivare a pacchetti di sanzioni successive perché sono pacchetti che poi finiscono per toccare delle difficoltà estremamente importanti in alcuni paesi. Nel caso dell'invasione, nel caso dell'attacco di Hamas e poi della risposta israeliana, chiaramente abbiamo una difficoltà ancora ulteriore perché non abbiamo un sistema che ci porti ad arrivare a soluzioni veloci. Detto questo, bisogna anche ricordare che anche se noi avessimo poi questo sistema, manca un'opinione pubblica, a mio avviso europea, che è capace di ragionare in materia di politica internazionale come un corpus europeo. C'è troppo storia in Europa per arrivare effettivamente così facilmente a trovare delle posizioni in comune. Avere un sistema però che le facilita dunque passare finalmente a maggioranze qualificate, chiaramente sarebbe un sistema che ci potrebbe rafforzare. Finché non le avremo non possiamo non lamentarci le difficoltà che abbiamo in materia di politica estera. E insomma, vediamo poi nella seconda domanda come potrà evolvere questa situazione, così le anticipo già una delle domande più antipatiche di tutto il festival. Comunque, dottoressa Dassu, torno subito da lei. Unione europea che nel medio-lungo termine si prepara ad affrontare nuove sfide come quella degli allargamenti a est, tra le altre cose alcuni che irritano la Russia, perché chiaramente inglobare un paese tradizionalmente filorusso come la Serbia è motivo di fastidio per Mosca e non parliamo di quando la Macedonia del Nord, come si chiama adesso dopo il trattato firmato tra Grecia e Macedonia, è entrata a far parte della Nato anche quello per la Russia. È stato un boccone molto difficile da mandare giù. Quali sono le sfide e quali sono le opportunità di questo futuro allargamento. Grazie, rispondo subito. Mi sono dimenticata di dire una cosa prima, se la potessi dire adesso. Ma prego. E cioè che questa nuova appunto competizione Cina-Stati Uniti si gioca essenzialmente sul predominio tecnologico. Questo è un punto molto importante discutendo di futuro. Quello che la Cina vuole diventare è la grande potenza dell'intelligenza artificiale, sta facendo degli investimenti enormi in questo campo e così gli Stati Uniti. Noi purtroppo come Europa siamo un po' indietro anche perché non abbiamo, fra le altre cose che non abbiamo, un bilancio federale consistente per investimenti di questo genere. L'altra cosa che volevo dire è che la Cina ha effettivamente guardato al futuro, non solo ha una visione dilattata del futuro, ma ha guardato al futuro già da anni. Per esempio con la capacità di acquisire quei minerali strategici, soprattutto in Africa, ma anche in parte proprio territorio dell'Asia e della mandlas, insomma della terra eurasiatica, per cui la Cina oggi ha un semimonopolio, l'80% del manufacturing di questi minerali che sono così importanti per noi e per la transizione energetica. Quindi per l'Europa paradossalmente tutta la questione della transizione verde è molto giocata sui rapporti con la Cina ed è per questo che raggiungere un accordo con gli Stati Uniti sul cosiddetto derisking, la riduzione del rischio legata alla dipendenza non sarà facile. Sull'allargamento due parole, è un allargamento geopolitico come del resto è stato secondo me quello del 2004, la grande rionificazione dell'Europa dopo il 1989, la fine della guerra fredda. Oggi l'ambizione è di dire ok entrano in Europa i nostri vicini, dei vicini complicati come l'Ucraina, tu citavi la Serbia, cioè entrano i paesi di quell'estero vicino che la Russia considera proprio, perché è lo spazio cuscinetto ai suoi confini ex impero sovietico e l'Unione Europea considera di non essere riuscita a gestire attraverso le politiche di vicinato, in effetti non c'è riuscita e quindi l'unica soluzione è di inglobarle, è l'allargamento. Quindi l'Europa del 2030, secondo le nostre dichiarazioni, sarebbe un'Europa 35-36 paesi, quindi non avere ad esempio il voto a maggioranza qualificata in politica estera diventerebbe ancora più assurdo. Ci sono due condizioni perché questo avvenga, prendiamo il caso dell'Ucraina, l'Ucraina deve cambiare lei stessa e deve anche entrare in una configurazione geografica che ci permetta di dire che il conflitto con la Russia è perlomeno congelato. È uno scenario che evoca un po' quello tedesco, in fondo la Germania divisa, è entrata nella Nato nel 1954 nella Unione Europea e questo non ha poi impedito la riunificazione successiva. Quindi una prima condizione è che l'Ucraina sia disposta ad entrare con il territorio che avrà e non sappiamo quale sarà. Tu sei la grande esperta, Marta, ma fondamentalmente la Russia controlla ancora il 15-18% del territorio ucraino ed è difficile nelle condizioni di oggi vedere che questa situazione cambi sostanzialmente. E poi l'Ucraina deve fare dei progressi su sette condizioni, su quattro le ha già fatte, su tre deve farle, la prima delle quale è l'anticorruzione. L'Ucraina non è il ben godi della democrazia occidentale, è un paese di oligarchi e di notevole corruzione che ha però dimostrato di sapere lottare fino in fondo per la propria indipendenza nazionale. Al tempo stesso deve cambiare l'Unione Europea perché le ripercussioni di questo secondo allargamento sull'UE stessa sono pazzesche. Sono ripercussioni sul bilancio, prima di tutto una serie di paesi che oggi sono i maggiori riceventi diciamo così di fondi strutturali, si troverebbero ad essere invece dei creditori netti, soprattutto in tutti i paesi dell'est. C'è un problema di politica agricola comune, avete già visto come la Polonia si sia seccata a morte quando abbiamo deciso che si poteva liberalizzare l'accesso dei prodotti agricoli ucraini alla Polonia, quindi un impatto è su questo e c'è tutto l'impianto istituzionale per cui fioriscono gli studi come al solito e allora si dice vabbè l'Europa del futuro sarà a cerchi concentrici, sarà a vari livelli multi-tiered, avrà avrà all'interno un polo più integrato, all'esterno l'Unione Europea del mercato unico e poi paesi associati e poi paesi di questa comunità politica europea. Io penso che in teoria, per me, per come vedo le cose io, l'unico modo per avviare questo allargamento così complicato è di andare in modo pragmatico politica per politica. Io sarei favorevole all'idea che i paesi del nuovo allargamento cominciano ad entrare nelle politiche in cui possono entrare e alla fine si vedrà se sono maturi abbastanza e se l'Unione Europea è cambiata abbastanza per avere una membership così larga. Grazie Marta Dassù, molto interessante, tra le altre cose a proposito di Russia che con i suoi tentacoli cerca sempre di espandere la sua influenza, c'è un altro voto solo all'apparenza minore nel 2024 che quello in Georgia e visto che anche una parte della Georgia è formalmente occupata dalle truppe russe, mi riferisco... La Georgia non ha ancora lo status di paese candidato, ma lei lo voglio dare. Esatto, esatto, e ricorderete tutti anche le manifestazioni che ci sono state nei mesi scorsi in Georgia quando si è cercato di far passare una legge sugli agenti stranieri molto simile a quella russa, le persone che scendevano in piazza con la bandiera dell'Unione Europea e qui c'è sempre, insomma, una delle madri delle tante domande è quanto questi governi che si dicono filo europei e desiderosi di entrare in Unione Europea lo siano poi nella realtà dei fatti se poi cercano di far passare leggi che sono simili a quelle di Vladimir Putin, ma questo lo vedremo in un secondo momento. Ambasciatore Nelly Feroci, abbiamo parlato di elezioni americane, Marta Dassù ha giustamente ricordato il voto a Taiwan, vedremo come andranno, vedremo anche da studiosa di guerra non lineare quanto impatterà la disinformazione e la Infowar su queste due elezioni molto importanti, che ricaduta possono avere queste elezioni sull'Europa soprattutto e in generale sull'ordine globale. Posso aggiungere una parola su quello che diceva Marta? Io condivido quasi al 100% quello che... però volevo aggiungere un'altra, due osservazioni o due su questa prospettiva di rilancio del processo di allargamento. È molto possibile, molto verosimile che a metà dicembre vengano prese decisioni che potrebbero avere un impatto operativo sulle aspettative di paesi vicini. Si è molto parlato di Ucraina, non c'è solo l'Ucraina, ci sono i paesi dei Balcani occidentali, noi abbiamo promesso una prospettiva di azione 20 anni fa e la maggior parte di loro sono ancora nella sala d'attesa. Dico questo perché questa operazione presenta un rischio enorme, cioè il rischio di creare aspettative presso questi paesi che poi magari noi non saremo in grado di soddisfare o perlomeno di soddisfare al ritmo, alla velocità con cui questi paesi si aspettano di essere accolti nella grande famiglia europea. Quindi questo secondo me è un rischio molto molto concreto. La lezione dei Balcani dovrebbe essere presente in Europa, purtroppo spesso ce la dimentichiamo. Seconda considerazione, io sono assolutamente d'accordo con le conclusioni di Marta, se effettivamente questo processo arriva a compimento, la data del 2030 è del tutto realistica, il fatto che l'abbia avvocata è presente del Consiglio europeo non mi conforta perché è un... vabbè, non voglio fare commenti su Charles Michel, ma anche ammesso che diciamo a certa data si arrivi a completare questo processo e che questa Unione europea abbia una dimensione pane europea, inevitabilmente è un'unione che avrà cambiato pelle, non sarà più quella che avevamo in mente e alla quale ci eravamo abituati fino a qualche anno fa, fino anche ad oggi. E quindi la chiave di volta, perché tutto il meccanismo possa continuare a funzionare e a dare risposte soddisfacenti, si chiama flessibilità. La possiamo declinare in mille modi, possiamo far aderire questi paesi soltanto ad alcune politiche, ad altre no. Possiamo invece, credo che la soluzione sia quella di aumentare le collaborazioni tra gruppi ristretti all'interno di un quadro istituzionale unico, le cosiddette integrazioni differenziate. Noi ne abbiamo dell'esempio di successo nella nostra storia, una per tutte è la moneta comune. È un sistema di un gruppo di paesi, i membri dell'euro sono 20, credo a questo punto, che convivono con gli altri 27 serenamente senza troppe frizioni. Abbiamo i paesi che partecipano a Schengen e altri che non partecipano a Schengen. Quindi bisognerà orientarsi verso un modello di governance dell'Unione molto più ispirato a principi di flessibilità e che sono comunque consentiti dai trattati di quanto oggi possiamo immaginare. Sulle elezioni americane, molto rapidamente, ci sono due possibili scenari. Ormai, a meno di sorprese, i due candidati per presidenziali rischiano di essere Trump e Biden. Nell'uno o nell'altro sono candidati ideali non tanto per l'Europa, ma soprattutto per gli Stati Uniti. E pensare che si arrivi a questo confronto con un candidato repubblicano che è un potenziale elemento di disruption del sistema politico istituzionale della democrazia americana e che dall'altro il competitor democratico sia un signore che ha fatto molto bene finora, ma che ha un'età tale che probabilmente non riuscirebbe a concludere il secondo mandato, è una prospettiva molto allarmante per lo stato di salute della democrazia negli Stati Uniti. Ma ci sono delle ricadute enormi anche per l'Europa. Poco cambierebbe se vincesse Biden. Biden è un presidente che ci ha abituato a lavorare con l'amministrazione americana in un rapporto di grande intesa, di grande concertazione, di grande convergenza su quasi tutto, diciamo, perfino sull'IRE, sulle misure di incentivo all'industria americana. Ma siamo riusciti, o stiamo cercando di trovare delle soluzioni friendly, collaborative, amichevoli. Se vincesse Trump il quadro cambierebbe e cambierebbe in peggio. Abbiamo già avuto un'esperienza di Trump, abbiamo saputo che cosa può significare un presidente come Trump alla Casa Bianca. Il prossimo Trump potrebbe essere anche peggiore, perché da quello che si sente in certi ambienti americani l'idea sua è di rivoluzionare quel deep state, cioè che è l'amministrazione profonda che gli ha impedito di realizzare appieno l'agenda del primo mandato. Quindi i danni potrebbero essere anche maggiori. E io individuo tre o quattro punti di straordinaria criticità per l'Europa. Probabilmente ritornerebbe in auge quella tendenza al disinteresse nei confronti dell'Europa, del destino della Nato. E quindi ci sarebbero enormi rischi che l'Europa perda quella garanzia di sicurezza sulla quale ha potuto costruire quella costruito finora. Noi oggi vivevamo, diciamo, di una garanzia di sicurezza che ci hanno sempre fornito gli americani. Con Trump non sarebbe più garantita. C'è il rischio di una ripresa di misure protezionistiche massicce. L'avevamo visto durante il primo mandato Trump. Biden in parte li ha mantenuti, in parte li ha ridotti. È molto probabile che ci sia un rilancio di misure protezionistiche. E comunque dovremmo abituarci ad avere a che fare con un partner americano molto meno friendly, molto meno amichevole, molto meno interessato ad un rapporto con l'Europa, che considera tutto compreso un'area marginale, in decadenza, non degna dell'attenzione americana, con tutta l'attenzione spostata sull'Indo-Pacifico e sul rapporto con la Cina. Quindi rischi enormi. Grazie. Grazie, ambasciatore. Professor Parsi, abbiamo parlato di mondo, abbiamo parlato d'Europa, abbiamo parlato del Global South. La situazione è complessa, per usare un aggettivo che ultimamente va molto di moda. L'Italia come si colloca in questo scenario, direi, assolutamente variegato? Ma a me sembra che l'Italia, tutto sommato, abbia come sempre, più di sempre, però perché la situazione appunto è fluida, no? Che è un altro oggetto che si sa spesso, no? Quindi diciamo, deve innanzitutto guardare al suo interno. A me sembra che sia questo il problema dell'Italia, oggi più che mai. Per poter affrontare le sfide esterne, per potersi anche misurare con alleati, amici, rivali, competitors e nemici. E questa è la grande questione. Misurarsi che il problema è al suo interno, che cosa significa? Beh, intanto significa che l'Italia deve fare uno sforzo, di iniziare a pensare che il presente, visto che si parla di futuro, il presente non è quel luogo ingombro dalle conseguenze del passato che non passa mai, che è la nostra politica. La fine della guerra mondiale ha quasi 80 anni dietro di sé e ancora stiamo discutendo delle questioni che riguardano la guerra civile che c'è stata tra il 43 e il 45. Attenzione, discutendo non come hanno fatto i tedeschi negli anni 60, che hanno sistemato i loro rapporti con il nazismo, ma discutendo in maniera assolutamente polemica partigiana e non in temi di riflessione sul passato. E dobbiamo invece pensare che il presente è innanzitutto il tempo in cui scrivi il futuro. E questo in Italia non c'è. Allora, questa è la prima cosa che mi avviso chiunque sia al governo, oggi, domani, dopo domani, deve mettersi bene in testa. Se pensiamo proprio a una dimensione di costruire finalmente, dopo tantissimi anni, una comunità politica italiana che sia in grado di affrontare il futuro e non di dividersi come sempre sul passato. Una comunità politica significa che non basta avere una dimensione antropologica per cui ci sentiamo italiani, gli italiani si sentono molto italiani quando vanno all'estero, quando incontrano gli stranieri. Noi siamo molto fieri, a volte anche senza un motivo preciso, della nostra italianità. Siamo convinti di essere i più smart, i più eleganti, quelli con la migliore cucina, con la lingua più bella, col passato più glorioso e via discorrendo. Però, alla fine, ci dividiamo come le curve di Roma-Lazio su qualunque questione. Allora, il problema fondamentale è che noi dobbiamo costruire degli argini politici in modo che le parti politiche siano costrette a stare dentro questi argini. Noi siamo in una situazione in cui, da un lato, abbiamo soggetti politici debolissimi, continuamente mutevoli, con leadership politiche che si affermano nello spazio di un mattino e tramontano nello spazio di un pomeriggio, sostanzialmente. Però, in questo percorso breve e completamente, come potrei dirvi, poco strutturato dal punto di vista dei contenuti, poi, delle grandi divisioni, in questo periodo di spazio questi piccoli ruscelli rischiano di esondare continuamente e distruggere quello che è il tessuto sociale e politico del Paese. Allora, noi questo non ce lo potevamo permettere prima, quando il mondo era molto più strutturato all'esterno e ci conteneva. Meno che meno ce lo possiamo permettere oggi. Se noi non facciamo questi passaggi, rischiamo veramente di essere, qualcuno prima citava Seneca, appunto, con il vento e i marinai, rischiamo di far sì che al minimo stormire di fronda, sostanzialmente, per noi sia sempre un uragano, una burrasca. L'altra cosa che mi sembra che sia fondamentale, ma che è collegata, visto che parliamo sempre di futuro, è cercare di capire che il tempo deve essere una risorsa. Per le leadership che contano il tempo è una risorsa, non è un problema. Le leadership che contano trasformano il tempo in un alleato, perché significa avere una visione e proporre questa visione. Ma attenzione, la visione, affinché sia di successo, non può mai essere una visione partigiana. Non che non ci sia un dibattito tra le parti, come avviene una democrazia, per quale tipo di visione abbiamo in mente. Ma a un certo punto il progetto deve essere un progetto che sia inclusivo. Inclusivo significa che la proposta che ho in mente del futuro deve poter vedere partecipi altri che hanno idee diverse e che alla fine la devono adottare. Se dovessimo usare un esempio storico di straordinario successo è la Francia di De Gaulle. Quando De Gaulle si inventa la Quinta Repubblica, metà abbondante della Francia e contraria al suo progetto. Tutta la sinistra, i socialisti, i radicali, ma parte anche dei popolari. E però il trionfo di De Gaulle non è quando De Gaulle diventa Presidente della Quinta. Il trionfo di De Gaulle è quando Mitterrand diventa Presidente della Quinta Repubblica. Quel Mitterrand che era stato fieramente all'opposizione del progetto costituzionale della Quinta. E nessuno mette più in discussione in quel paese per un lungo periodo quell'assetto. Allora lì tu hai vinto. Perché un'idea che nasce, come tutte le idee, da una visione, da un punto di vista, diventa un'idea condivisa. Ma per farlo devi costruirla in quella maniera e devi relazionarti con gli altri in quella maniera. A me sembra che queste siano le sfide più grandi perché coinvolgono poi un'altra cosa che ha a che fare col futuro, per noi italiani sempre problematico, che è la nostra identità. Noi dobbiamo abituarci al fatto che nel passato possiamo trovare gli elementi che fanno parte della nostra storia, che ci hanno portato fino a qui. Ma per poter essere solidi, per poter andare incontro al futuro sicuri, per poter essere in grado di confrontarci con quello che c'è fuori e con quello che viene incontro a noi, dobbiamo capire che il passare del tempo non è una sfida che mette a rischio la nostra identità, ma è semplicemente la sfida che ci fa trasformare, esattamente come un percorso umano in cui noi riusciamo a crescere se riusciamo a trasformarci gradualmente. E non è che perché abbiamo i capelli bianchi o abbiamo messo su peso che non siamo più quelli che eravamo quando avevamo vent'anni o trent'anni. Sì, siamo diversi perché ci siamo trasformati, ma siamo sempre noi. Ecco, questo io credo che sia una questione importante, che spetta la leadership innanzitutto, ma spetta anche a noi cittadini, spetta anche a noi fare quell'ultimo miglio per passare da questa sensazione di condivisione di che siamo tutti italiani. L'altro giorno c'era Sinner che giocava a tennis in un'esplosione di patriottismo, Sinner sudtirolese come sapete, per cui è anche bello che tutto questo sia stato sorpassato dopo trent'anni, quarant'anni dalle bombe in alto allice, cinquant'anni ormai. Abbiamo fatto l'ultimo miglio a passare da una comunità culturale, sociale, metteteci quello che volete, a una vera comunità politica, che è la comunità sociale con le sue istituzioni che consentono di vivere in maniera più semplice, regolata, migliore e con la Costituzione che vigila su questa relazione. Questa è la nostra grande sfida domestica paradossalmente per poter stare sullo scenario internazionale con meno paure e con più capacità di incidere a quel punto anche su questo scenario. Grazie professor Parsi per questa riflessione che peraltro, lo cito con piacere, richiama anche la sua ultima fatica letteraria, il libro Madre Patria, un'idea per una nazione di orfani, edito da Bonpiani. Mi fa anche piacere che questa mattina proprio ci siano diverse scolaresche in presenza e anche in collegamento, quindi sono contenta che abbiano sentito riflessioni di qualità non solo sul mondo di domani ma anche sulla nostra Italia. Ecco, e poi adesso arriviamo alla domanda sulla nostra Europa. Dottor Parenti, ragionando in un medio termine, che cosa ci possiamo aspettare dalla politica estera europea? Ne parlava anche prima Marta d'assù su come possa evolvere. Riusciremo ad avere un'Europa con una politica estera più coesa e magari anche una politica di difesa comune, tema che dopo l'inizio, lo scoppio della guerra in Ucraina è tornato, diciamo, sull'agenda, sul tavolo di molte cancellerie. Guardi, io temo che la mia domanda, la mia risposta in un attimo di onestà intellettuale totale sia un no, perché l'Unione Europea non può darsi, per citare il buon Manzoni, il coraggio che i suoi stati membri non hanno e questo credo che sia un limite straordinario dell'Europa. Prendiamo un attimino il caso dell'invasione della Russia in Ucraina. Noi oggi, per interposta persona, l'Ucraina, siamo in una situazione di belligeranza in un qualche modo con la Russia. La Russia ha 150 milioni di persone, l'Unione Europea 450 milioni. Il GDP, il prodotto interno della Russia è più o meno quello della Spagna, un decimo di quello europeo. La Russia spende, noi spendiamo come europei quattro volte in difesa quello che spende la Russia. E abbiamo paura della Russia? Credo che in milanese ci sia una parola per definire questo atteggiamento, che non la ripeto. Però confermo, esiste. Esatto. Allora, partiamo da questo presupposto. Il problema è, e mi rifaccio quello che stava dicendo del professor Parsi, poc'anzi, che se in un paese come l'Italia, ancora oggi esiste la necessità di trasformarsi in vera e propria comunità nazionale, è ancora più complicato fare il passaggio successivo e trasformarsi in comunità, non in senso istituzionale, ma in comunità europea. E questa è un grande sfida che abbiamo davanti a noi, perché se noi questa sfida non la prendiamo, e io onestamente credo che abbiamo quattro anni, cinque anni di tempo per farla questa sfida, allora rischiamo veramente di diventare ostaggio di altri, perché non avremo più tanto tempo. Se negli Stati Uniti vince Trump, l'Europa perde fondamentalmente il suo ombrello difensivo. Che facciamo con la Russia? Cioè, noi siamo, viviamo in Europa da tanti anni, in quella che ormai chiamo, so che di essere un po' provocatore, la maledizione di Monet, che l'Europa va avanti rispondendo a delle crisi. Ma noi le crisi che abbiamo davanti le sappiamo quelle che sono. E oggi dobbiamo dare una risposta a queste crisi. Ma se noi aspettiamo che la crisi ci coinvolga, ci stravolga, siamo troppo tardi. E al tempo stesso, vedete, guardate i risultati delle elezioni in Rolanda di ieri sera, la risposta dell'elettorato è not in my garden. Perché un partito come quello di Wilters, che vince dicendo io non voglio più immigrazione, non dicendo io voglio dare una risposta alla questione dell'immigrazione, è la visione più semplice, più evidente di come grandissima parte dell'elettorato, che stiamo parlando di un paese sicuramente tra i più sviluppati in Europa, come la reazione è una reazione, non toccatemi quello che ho, non fatemi guardare ad un futuro che non voglio vedere, anche se il futuro è davanti a noi. E allora qui bisogna veramente fare un grosso passaggio. Bisogna farlo velocemente, perché io, e qua dissento leggermente con quello che diceva prima sia Marta che Ferdinando, non abbiamo il tempo per, non abbiamo 30 anni per integrare i paesi dei Balcani e l'Ucraina. Abbiamo necessità di trovare dei modi di farci funzionare, ma all'interno di una Unione Europea che sia quella che è sempre stata, cioè la protettrice dei diritti democratici di noi cittadini europei. Se noi falliamo in questo mettiamo a rischio quello che oggi è l'Unione Europea e mettiamo a rischio le nostre democrazie, non mettiamo a rischio l'Ucraina o i paesi dell'area balcanica, mettiamo a rischio noi stessi. Io credo che veramente dobbiamo fare un passaggio serio di ripensare a quello che vogliamo dell'Unione Europea e a come la possiamo arrivarci. Non è un passaggio facile, passare da 27 paesi che hanno 27 politiche di difesa, che hanno 130 sistemi di arma differenti a un sistema americano, significa ridurre le imprese, significa agglomerare le imprese, significa licenziare dei lavoratori, significa avere una politica sociale che possa aiutare tutto questo. Però di questo bisogna parlarne e bisogna soprattutto cercare di agire, perché non abbiamo vent'anni davanti a noi. Molto interessante questo ragionamento, tanto lavoro da fare. Condivido anch'io sul fatto che non abbiamo tutto questo tempo anche perché c'è chi da fuori lavora dietro le quinte perché in Europa prendano piede dei movimenti che con l'Europa, con i valori fondanti dell'Unione Europea non hanno nulla a che vedere. Io non dimentico mai, la cito sempre, un'intervista che Vladislav Surkov rilasciò al capo dell'ufficio di corrispondenza a Mosca del Financial Times, dove sostanzialmente Surkov, Surkov è uno delle grandi eminenze grigie del Kremlin, è stato uno dei cosiddetti fondatori del putinismo, e Surkov diceva che verrà il giorno in cui anche in Europa dovrete diventare tutte democrature, un termine che mi fa veramente accaponare la pelle, sul modello della Russia di Putin. E insomma, che Dio ce ne scampi, Marta Dassù voleva dire una cosa? Volevo dire Antonio che io non sono d'accordo con te, cioè Sur è stato Ferdinando a dire che ci volevano tempi biblici. No, volevo fare solo due osservazioni. Prima, a me pare Vittorio che il problema della polarizzazione delle opinioni interne e politiche non sia un problema solo italiano. Poi chiaramente c'è una fragilità italiana, c'è un'abitudine italiana a essere protetti dal contesto esterno, però insomma tutte le democrazioni occidentali vivono un problema di polarizzazione estrema e questo è una questione più strutturale del sistema contemporaneo. Abbiamo paura della Russia, è vedere il mondo secondo me, e questo è un problema che dovremmo discutere in un festival come questo, in modo troppo razionale, non contano solo gli stati, contano appunto i cittadini, le lobby, gli attori economici, eccetera eccetera. Quindi in ogni tensione di questo tipo c'è qualcuno che perde, c'è qualcuno che guadagna, è abbastanza evidente. Quindi nel rapporto con la Russia alcuni settori industriali europei si sentono fortemente danneggiati. Mi sembra che proprio qua a Verona ci fosse un grande festival o un grande evento sui rapporti fra l'Italia e la Russia. Voglio dire che ci sono settori specifici che hanno qualcosa da perdere e questo vale per i rapporti con la Cina, i rapporti con gli Stati Uniti e così via. E poi c'è la grande questione delle armi nucleari. Effettivamente noi viviamo in un sistema di deterrenza nucleare che si basa sull'idea di una mutua distruzione assicurata che dal nostro punto di vista per l'Europa è garantita esclusivamente dagli Stati Uniti. Quindi quando c'è un'incertezza su cosa faranno gli Stati Uniti c'è anche un'incertezza su cosa ci succederà senza contare infine che la Russia ha aumentato del 70% delle sue spese militari e vive fondamentalmente in un'economia di guerra. Quindi credo che le vecchie relazioni vadano un po' riviste. Perfetto. Ambasciatore Nelli Feroci, ultima battuta. Funziona, sì. Due manifestazioni tipiche della sovranità nazionale che sono la moneta e la politica estera difesa sono state gestite in maniera completamente diversa nell'Unione Europea. All'inizio degli anni 90 noi abbiamo deciso di costruire una politica monetaria comune, di darci una moneta comune. Nello stesso strumento che poi era il trattato di Mastic avevamo anche deciso di dotarci di una politica estera di sicurezza comune. Una ha funzionato, l'altra no. E secondo me i motivi sono questi. Tutti e due erano espressioni supreme della sovranità nazionale. Sulla moneta ha funzionato perché si è deciso che avrebbero aderito a questo progetto quelli che erano in grado di farlo e quelli che volevano farlo. E quindi si è costruito all'euro, l'eurozona, con tutte le regole di cui si parla continuamente, compreso in questi giorni. Su politica estera e di difesa non è passato questa idea che si poteva lavorare a geometrie variabili per gruppi distretti e si è continuato a pensare di poterla realizzare a 27. Senza fare i conti, con un tasso di eterogeneità nelle sensibilità tra paesi membri che era enormemente cresciuto come conseguenza dell'allargamento. E oggi siamo esattamente in questo nodo. Per questo torno al discorso che avevo accennato prima parlando dell'allargamento. forse la soluzione è ancora una volta nella ricerca di meccanismi di flessibilità che consentano a gruppi di paesi più omogeni di andare avanti anche sulla politica estera, sulla politica di difesa. Perfetto, io ringrazio ancora Marta Dassù, Senior Director di Europa Aspen Institute, l'Ambasciatore Nelly Feroci, Direttore dell'OIA, il Professor Vittorio Emanuele Parsi, Direttore della rappresentanza della Commissione Europea a Roma e ringrazio soprattutto tutti quanti voi per aver seguito questo primo talk di questa quinta edizione del Festival del Futuro. Ripasso il testimone ai conduttori.